ciao a tutti una piccola intervento serale non è serata di della mia trasmissione però del talk show ma però ma però desidero dopo dopo lo scritto pubblicato ieri da rondoni sul silenzio dell'intellettuale in generale oggi leggo qualche pagina di a colpi d'ascia di thomas pernard perché in un momento come questo questo vuoto questo silenzio questo silenzio come possiamo definirlo mefitico in qualche modo urla alcuni stracci da questo libro direttamente senza senza andare a interpretare eccetera ciascuno può in qualche modo farsi un'idea o comunque farsi stimolare da queste da queste parole senza necessariamente trovare degli degli agganci degli addentellati di te scalici o relativi alla cronaca del quotidiano insomma però è interessante sentire queste voci che ormai parlano da un passato nel caso di bernard bernard recente ma che è un passato recente che sembra appunto antidiluviano il flusso di questo romanzo è un flusso in cui che attraversa per tramite di bernard stesso tanti personaggi che vengono passati insomma come possiamo dire vengono presi a colpi d'ascia ma è interessante comunque questa questa coralità perché persino in chi egli pare disprezzare in qualche modo è possibile sentire la voce dell'indignazione a più livelli di una gradazione di indignazione di insofferenza che prende l'ego e che prende anche l'ego di la e la miseria dello stesso bernard comunque vado salto così leggo alcuni stracci a parlare quello che lui definisce l'attore del borg il teatro di vienna più volte ripete l'attore più volte ripete rivolgendosi all'attore del borg sicuramente lei ha una sua opinione su questo uomo nuovo dice praticamente un nuovo direttore pare succedersi al vecchio del direttore del teatro sicuramente lei rivolto all'attore del borg ha una sua opinione su quest'uomo ciò che in effetti mandò in bestia l'attore del borg l'attore del borg si raddrizzò nella poltrona tirò indietro le gambe allungo il collo sollevo il capo e bene disse che bello ci arriva in casa un uomo nuovo ma questo non lo interessava affatto aggiunse nera tenuto a occuparsene per quanto lo riguardava ne aveva visti talmente tanti assumere la carica di direttore del burger theater per poi e poi lasciare questa carica che anche per quest'uomo non provava il benché minimo interesse i direttori vanno e vengono li si accoglie a braccio aperte per poi cacciarli dal teatro con infamia e disonore disse è sempre stato così e anche quest'uomo nuovo non farà eccezione disse già l'uomo nuovo disse può anche darsi sia un genio come dice lei al che geni ribatte subito che lei non aveva affatto detto che quell'uomo nuovo era un genio a dire che quell'uomo era un genio erano stati i giornali non era stata lei a dirlo ma i giornali a scriverlo adesso ogni giorno i giornali scrivono di questo genio in arrivo dalla germania non era stata lei a dirlo e la torre del burg disse che a lui non importava affatto se era stata lei a dirlo o i giornali a scriverlo sappia mia cara che mi è del tutto indifferente chi sia quest'uomo nuovo che ci arriva in casa disse per lui era sempre stato lo stesso era sopravvissuto a una buona decina di direttori del burg disse l'attore del burg che sono tutti scomparsi oggi non ce n'è nessuno che ricordi neppure il loro nome a insediarli è un ministro qualsiasi che di teatro non capisce niente segue soltanto il proprio istinto politico e quelli lavorano per un anno e poi il contratto viene disdetto così si espresse l'attore del burg che ha un trattere di nuovo irritatissimo il ministro sceglie qualcuno che crede possa servirgli più di altri qui potremmo farci insomma tanti discorsi sulla contemporaneità nostra del nostro mondo italiano dell'arte e delle musiche allora il ministro sceglie qualcuno che crede possa servirgli più di altri naturalmente sempre soltanto per motivi politici mai per motivi artistici così disse l'attore del burg e non appena questo nuovo personaggio ha firmato il suo contratto si comincia a osteggiarlo e tutto viene messo in modo tale che quello finisce per andarsene più presto che può due o tre delle sue messe in scena vengono lodate dalla stampa disse l'attore del burg e qui pensiamo ai critici che scrivano e poi proprio quelli che lo hanno magnificato portando dalle stelle per un anno intero prima che lui firmasse il contratto proprio quelli cominciano a condannarlo a denigrarlo a falciargli l'erba sotto i piedi e per lungo tempo l'uomo nuovo non si accorge neppure che l'erba sotto i suoi piedi è stata falciata ancora prima che siano scaduti i termini del suo contratto disse l'attore del burg l'uomo nuovo può fare quello che vuole ma nel momento stesso in cui firma il contratto di direttore del burg theater è già un uomo morto se i giornali prima che firmasse il contratto e prendesse servizio hanno scritto che un genio sicuramente dopo che ha firmato il contratto e ha preso servizio scriveranno che è un idiota non importa che spettacoli mette in scena col tempo quell'uomo verrà sempre di meno e in due o tre anni non verrà assolutamente più nulla qualsiasi cosa abbia fatto disse l'attore del burg se mette in scena dei classici è un'idiozia se mette in scena dei cosiddetti testi moderni è ugualmente un'idiozia se scegli autori austriaci è sbagliato e senza valore se mette in scena autori stranieri è ugualmente sbagliato e senza valore se prima di arrivare al burg theater di vienna sentito dire dei critici che il suo shakespeare è travolgente in assoluto lo shakespeare migliore che loro i critici abbiano mai visto allora non appena è il direttore del burg theater i critici diranno che il suo shakespeare è una catastrofe quelli che creano i direttori del burg non appena hanno raggiunto il loro scopo e il nuovo direttore del burg ha firmato il contratto disse l'attore del burg si trasformano all'istante in coloro che denigrono il direttore del burg lo dirò disse l'attore del burg a jenny bill rot che se uno è un buon attore non ha nessuna importanza quale sia il momento al momento il direttore del teatro eccetera eccetera saltando chiude dicendo o meglio continua dicendo è in questa storia la cosa anzi no parto da prima tutto viene stritolato da questa macina artistica viennese tutto disse l'attore del burg tutto disse l'attore del burg ineluttabilmente e in questa storia la cosa più curiosa disse l'attore del burg è che tutte queste persone saltano di buon grado nella macina artistica dalla quale verranno poi completamente stritolate anche i direttori del burg saltano di buon grado in questa macina artistica qualche volta addirittura si danno da fare per tutta la vita e compiano gli sforzi più grandi pur pur di poter saltare in questa macina artistica si fanno decisamente a pezzi pur di saltare dentro questa macina artistica da cui verranno poi totalmente stritolati totalmente stritolati totalmente stritolati esclamò l'attore del burg quindi disse a me però non c'è agitazione o scandalo per un vecchio nuovo direttore del burg che mai mi abbia sfiorato vede mia cara disse poi rivolgendosi a jenny bill roth io questo ecdal lo avrei recitato sotto qualunque direttore mi deve credere e inoltre disse l'attore del burg come se con ciò volesse chiudere l'argomento io me ne vado in pensione ancora prima che il nuovo direttore prenda servizio non farò neanche più parte del teatro quando lui prenderà servizio disse l'attore del burg e si girò verso l'ausberger che aveva sonnecchiato per tutto il tempo e di ciò che l'attore del burg aveva detto risposta alla domanda di jenny non aveva sentito una parola queste sferzate di di thomas bernard che ovviamente bisogna leggere il romanzo mi scuso per la mia pronuncia da quei termini austriaci tedeschi ma il mio tedesco è veramente inesistente ecco leggere questa modalità di di invettiva invettiva perché si tratta di una sconvolgente invettiva quella che possiamo leggere in colpi d'ascia oggi sarebbe insomma come dire sarebbe salutare purtroppo la congestione in cui viviamo questa stasi di cui ieri nella diretta abbiamo parlato questo questo congelamento sostanzialmente della della dell'indignazione no per della lotta per ciò per l'ideale pare essersi come dire disciolto e poi coagulato in due poli no in questi poli in cui c'è chi subisce questa forma insomma di 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 costrizione che è dovuta certamente a un'emergenza sanitaria ma che porta dietro tutto un cascame il portato di tutto ciò che in questi 20 30 diciamo 40 anni è stato è stato è stato seminato ed è stato ed è stato insomma portato a a questo livello spesso mi traslocando da casa mi capita insomma di prendere delle vecchie foto gli anni 90 sembrano talmente distanti sideralmente distanti parlo per esempio per ciò che riconcerne la musica no era possibile dalle locandine no oggi ho ieri ho caricato delle locandine insomma vedere dai programmi no che c'era questa 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 bellezza no dell'accostamento anche spontaneo in queste rassegne che venivano organizzate c'era molta me molto meno di stacco tra una base come possiamo dirla di una base insomma di militanti parlo del mio linguaggio il jazz e il gota chiamiamolo così era era comunque tutto un di venire era tutta come possiamo dire una c'era tutta una biodiversità un sottobosco ecco patrizia stavo per dirlo parlavamo del dare una forma che un nome a qualcosa per farne ciò che vogliamo esattamente le invettive di thomas bernard non risparmiano nessuno e in primis se stesso perché questo romanzo che gli ha dato molti problemi è un romanzo in cui perché chiaramente lui quindi i riferimenti magari sono evidenti a chi ha vissuto quella quell'ambiente artistico insomma di quegli anni a vienna e facilmente gli artisti e i protagonisti e gli organizzatori sono 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 riconoscibili e questa invettiva però non risparmia in primis se stesso ecco solo probabilmente chi ha attraversato un percorso di forte autocritica di forte chi non si è concesso nulla non si è adagiato sugli allori sui facili sui facili possiamo come possiamo dire stilemi idiomi non si è mai accontentato in qualche modo di ripetere se stesso ecco forse chi ha avuto insomma un atteggiamento così intransigente nei confronti della propria vita carriera dignità può assolutamente essere in qualche modo motivato a dire ecco giuseppe carbone l'epicolo l'epigono di weber sì esattamente l'invito ma anche essendo insegnante in conservatorio che posso fare ai ragazzi eccetera che vedo per molti aspetti curiosi e vogliosi di sapere ma per molti altri come annientati ecco leggetevi questo leggetevi questo e se non vi si accende nessuno nessuna 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 belleità come dire indignazione voglia di spaccare tra virgolette il mondo cambiate mestiere non lo fate sì oppure dedicatevi vabbè a qualche forma di insegnamento va bene pure ma insomma essere 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 bravo giuseppe essere oggi nel lagone per chi per quanto ancora è consentito perché non è facile rimanerci in tutti i sensi implica implica uno uno sforzo implica un implica essere scomodi essere scomodi è il must di un di un sedicente artista non ha importanza a che livello essere non è una non è qualcosa che 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 ti è stato prescritto appunto dal medico è una forma di vocazione che corrisponde a quella del del prete che si fa prete quando lo si fa appunto lo diventa prete per per vocazione quindi non perché qualcuno gliela imposto e quindi essere oggi dico ai ragazzi insomma leggetevi questo senza andare vabbè questo basta per ora no poi chiaramente perché questo qui questo libro qui tocca il cuore di tutto ciò che noi non osiamo dire ma che sentiamo essere pulsante quindi chi legge questo libro se lo legge così può tranquillamente cambiare mestiere ma proprio ma ma felicemente cioè nel senso io lo metterei come prova discriminante d'esame cioè che emozioni hai provato leggendo questo libro ma sarà qua vabbè va benissimo promosso anche 30 però via cioè non è cosa tua oggi l'italia è un paese congestionato nel museo dell'estete estetizzante della propostina ok a grandi linee no la propostina la cosuccia la cosina il mio orticello questo non ha nulla a che vedere né col jazz né con l'arte visiva né con la letteratura meritante né con nulla in questo senso lo scritto di rondoni è assolutamente fondamentale questo sentivo di dirvi oggi ci vediamo per la diretta di venderti con tanti ospiti ciao